Sulla base delle prime indicazioni ci sono segnali che la probabilità che sotto a questi ruderi ci possa trovare questo grande pittore sono abbastanza alte, però non sciogliamo la riserva fino a quando non abbiamo completato l'acquisizione di tutta la documentazione e la lettura attenta. Comunque vale la pena scavare indipendentemente dal fatto che potremmo trovarlo o no, perché qui ci trova una chiesa del XII secolo che secondo me è rimasta intatta nella sua struttura e diventa un elemento di importanza storica archeologica fondamentale, proprio perché essendo stato il prodotto abbandonata per alluvioni e per sedimentazione di materiali litoidi è rimasta intatta, quindi da questo punto di vista vale la pena già solo per quello, perché Messina non ha memoria storica, qui forse troviamo la memoria storica che va dal XII secolo in poi, per questo vale la pena. Trova il resto di Antonio da Messina, parliamo di un pittore che rappresenta assieme a altri grandi pittori della generazione, Donatello, Brunelleschi e Masaccio, quelli che hanno realizzato è il momento primo e alto di ciò che poi sarà la pittura di Nascimentale che troverà poi Michelangelo, Botticelli e così via la sua maturità e poi perché Antonio da Messina è l'unico pittore che non nasce dalla scuola toscana e attenti perché Antonio da Messina ha già tecniche, utilizza già il chiaroscuro, cioè siamo di fronte a un pittore che potrebbe nel ritrovamento produrre un effetto traino enorme sia di valenza della scoperta ma sia di rivalutazione ancora più grossa di Antonio da Messina, anche se negli ultimi vent'anni la sua figura sta crescendo sempre di più. Dello scavo del genere è uno scavo estremamente complesso ma devo dire il comitato ha già esperienze sia con Caravaggio sia con la Gioconda Firenze di queste complessità. Lo scavo può, non è solo lo scavo, il problema è terminato lo scavo se individuiamo la cappella che c'è sicuramente in tutte le altre fade successive, è un'operazione da 8-9 mesi se tutto va bene. Trovate i resti gli esami sono complessi perché innanzitutto in una cappella noi, in una cappella troveremo vari resti mortali e dovremo fare esami di antropologia ossea di tutti i resti, esami del carbonio 14 per accertare il periodo storico, noi stiamo cercando una persona morta nel 1479, esami istologico per determinare l'età, 49 anni, poi se tutto va bene dovremo fare un esame comparativo del DNA tra omologhi se non riusciamo a trovare direttamente i discendenti, cioè dovremo cercare qui a Messina quelli che sono i topon, nomi che riconducono al ceppo familiare di Antonio che sarebbe poi di Antonello da Messina, quindi insomma è una cosa abbastanza e in più dovremo fare gli esami dei metalli pesanti dentro i resti ossei al fine di accertare se c'è presenza di piombo, cadmio, cioè piombo in modo particolare perché è un pittore, quindi insomma è una ricerca esterna, l'abbiamo già fatta su Caravaggio, più o meno simile.